È ripartito Ti presento il Comune. La scorsa settimana sono state alcune classi del liceo Mamiani ad inaugurare la seconda edizione del progetto educativo didattico promosso dalla presidenza del Consiglio Comunale. Primi studenti di oltre 550 che in questo anno scolastico aggiungeranno al loro programma una proficua aggiunta di educazione civica comprendendo come funziona un'amministrazione pubblica e un Consiglio Comunale. Ti presento il Comune, un'iniziativa della presidenza del Consiglio Comunale a cui tengo tantissimo che ha avuto la sua prima edizione nel 2021-2022, anno scolastico in cui abbiamo coinvolto oltre 556 studentesse e studenti delle scuole elementari, medie e superiori. 28 classi che si sono alternate in un grande processo di partecipazione, conoscenza, formazione che ha consentito ai ragazzi e le ragazze di fare una simulazione della sala consigliare, comprendere i processi decisionali, capire quali sono i ruoli del Presidente del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, di un consigliere, come diventare consigliere e tutto questo l'abbiamo voluto riproporre anche per questo nuovo anno scolastico. Aggiungiamo anche che ci sarà la possibilità da quest'anno anche per coloro che hanno partecipato a questi momenti di formazione e conoscenza di poter fare l'alternanza scuola-lavoro, quello che era l'alternanza scuola-lavoro, ovvero la PCTO. Un altro momento dedicato ai ragazzi e le ragazze che potranno seguire in circa 20-25 ore il processo di convocazione del Consiglio Comunale, partecipare alle commissioni, agli uffici di presidenza e chiaramente alle sedute del Consiglio Comunale. Una grande iniziativa che in tanto tempo non era stata strutturata e che ho voluto strutturare per poter definire meglio quali sono le competenze, spiegare bene quali sono i processi decisionali e far conoscere bene quali sono i ruoli della città che amministriamo.